Siamo con Giovanna Rifa e Peppe Iannetti, showman, conduttore, artista, nonché presidente di Rosso Passione, APS, una giovane realtà che opera nel territorio tra formazione artistica e volontariato, potremmo dire. Quali sono i progetti per il futuro? Allora, i progetti per il futuro sono veramente tanti. Siamo appena usciti adesso con un progetto con una band musicale di Sansevero. Siamo stati ospiti e sono stato il coreografo di questo video, Sciogli le trecce, di padre e figlio, un duo di Sansevero. Abbiamo vissuto questa bellissima esperienza facendo un tuffone passato dagli anni 20 agli anni 70. Adesso, proprio settimana prossima, riapriremo la scuola di ballo Rosso Passione presso l'istituto di San Giovanni Bosco a San Marco e Lamis e prossimamente, abbiamo avuto già qualche svista stasera, riapriremo anche a Sansevero. Sono reduce da vari reality televisivi, adesso l'ultimo è stato in piena pandemia, Gives My Age su La 7D, indovina l'età, e su TV8, anche in onda. Ho presentato anche un progetto di volontariato che ho fatto tre stagioni ed è terminato a giugno, tutti possono ballare con l'associazione Superamendo Handicap, perché sono del progetto e dell'idea e mi combatto sempre per il paro e i diritti per tutti, cioè tutti possono ballare, dal disabile a non. E speriamo di realizzare anche questa realtà nella città di Sansevero, che non ci sono distinzioni tra chi ha 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni e soprattutto tra disabili. Sarebbe bello fare un corso formativo tutti quanti insieme e ballare tutti insieme, perché il ballo è un'ottima medicina, il ballo è vita. Quindi anche dalla Puglia, da queste piccole realtà, possono nascere idee di talento, idee artistiche, anche a livello nazionale. Esatto, perché tra i mille viaggi che esecuo, e ci sono, conosco tanti piccole realtà e tanti piccoli tarenti. Poi se ci sono dei ragazzi talentuosi, in questo caso faccio l'esempio di Sansevero, di questo padre e figlio, lo dico prossimamente, siamo stati anche selezionati e scritto anche su Google, varie testate giornalistiche l'hanno riportato, saremo anche a San Marino, incrociamo le dita, perché se si supera lo step di San Marino si va all'Eurovision Contest. Quindi abbiamo situazioni molto molto importanti e quest'anno siamo già iscritti per presentare gli eventi collaterali al Festival di Sanremo 2023. Questo è l'ottavo anno che mi presenterò a Sanremo, nella Città dei Fiori, per condurre anche la terza edizione di Sanremo Modern Fashion Week.